salve eccoci alla terza puntata del nostro corso sulla nouvelle teologie abbiamo fatto già due quindi se te li vuoi guardare li puoi vedere nel mio canale ti chiedo anche cortesemente di iscriverti se non l'hai fatto ancora al mio canale puoi dare il like o se non ti piace mettere che non ti piace mettere dei commenti perché con questo possiamo dare dei feedback anche se ci sono delle domande o chiarimenti da fare sono sempre ben disposto a farli basta che me li scrivete nei commenti però iscrivetevi al mio canale che mi fate anche un grande piacere in questa puntata noi dovremo parlare della cronostoria del movimento della nouvelle teologie del ressourcement il cosiddetto ressourcement aggiornamento sono diversi termini che noi utilizziamo per parlare di questo periodo partiamo forse subito con la presentazione eccoci qua entriamo quindi già completamente nella nouvelle teologie e nel suo contesto storico cosa abbiamo detto finora abbiamo parlato di leone tredicesimo e le due esigenze le due linee guida che la chiesa aveva invitato ai cristiani a portare avanti una il rinnovamento e l'approfondimento sempre con molta cautela degli studi degli studi biblici senza cadere negli errori del protestantesimo liberale e l'altro è il ritorno a san tommaso d'aquino abbiamo due encicli che che ci servono un po di guida la providentissimus deus sugli studi biblici e la eterni patri sul ritorno a san tommaso d'aquino poi dove abbiamo affrontato abbiamo parlato nella seguente puntata nella seconda puntata del nostro corso su la crisi modernista tra alfred loasi e san pio san pio decimo l'enciclica pascendi dovremmo dire qualcosa adesso sull'enciclica pascendi e il decreto lamentabili lamentabili che è una specie di silabus un elenco degli errori modernisti e mentre la pascendi è una presentazione del problema del modernismo nella chiesa è una serie di indicazioni per i vescovi per i rettori dei seminari eccetera quindi questi sono i contesti nel quale già abbiamo entrato un pochino dovremmo entrare ancora dovremmo parlare dei due schieramenti teologici che sono in campo a questo punto da una parte c'è il fronte neoscolastico è un tema che ricorrà costantemente ricordiamo alcuni momenti salienti 1908 la fondazione dell'angelicum dell'università di san tommaso d'aquino guidata fino ai nostri giorni dai padri domenicani poi la presenza il protagonismo che avrà il grande garrigù lagrange in tutta la questione delle censure fatte ai padri gesuiti ai padri domenicani su sui loro scritti in particolare contro anche del bac a toulouse comparirà un personaggio un frate domenicano che è michel la burdette che sarà chi inizierà la disputa sempre primo a livello accademico con i gesuiti di Lyon Fouvière che sarà appunto il fronte del rinnovamento poi a Roma abbiamo anche a Pietro Parente tornerà anche questo personaggio del seminario romano quello che adesso è l'università lateranense e dall'altra parte abbiamo un altro schieramento che è quella che noi abbiamo chiamato la nouvelle teologie o la teologia del rinnovamento questa teologia del rinnovamento ha però diciamo due tendenze e io mi fermerò solo in una in questo video che adesso stiamo facendo diremo qualcosina su una delle tendenze ma poi entreremo subito sulla nouvelle teologie la teologia di origine francese abbiamo appunto la teologia tedesca che gira attorno a Mysterium Salutis che è una grande enciclopedia teologica guidata da Raner e altri che sarebbe il rinnovamento tedesco della teologia tedesca e poi abbiamo la rinnovamento di stampo francese che è propriamente detto la nouvelle teologie quando noi stiamo parlando della nouvelle teologie qui non parliamo di Raner non parliamo di Schillebex non parliamo di Schoenenberg quindi teologi che non sono di aria francese abbiamo citato von Balthasar perché lui quando era gesuita si era formato nella scuola di Lyon-Fouvier in Francia quindi la sede del rinnovamento diciamo della teologia francese però poi lui seguirà un'altra strada in lingua tedesca andiamo a vedere questi due fronti teologici entreremo completamente sulla nouvelle teologie facciamo qualche accenno alla teologia neoscolastica quindi la teologia del rinnovamento risorse risorse ma o aggiornamento lo lasciamo un po per il momento e commentiamo qualcosa sul fronte neoscolastico qui come abbiamo detto abbiamo al grande Garrigou Lagrange dell'Angelicum a Michelle Burdette dell'Estudium Dominicano di Toulouse e poi a Cardinal Pietro Parente professore al seminario romano dell'Università Lateranense allora questa questo fronte neoscolastico risponde legittimamente alla richiesta dei papi di ritornare a Sant'Ommaso d'Aquino da Leone XIII prima ancora con Pio IX e soprattutto con Papa Pio X che chiederà e imporrà diciamo che lo studio di Sant'Ommaso sia lo studio fondamentale quasi esclusivo dei seminari nella formazione dei sacerdoti quindi risponde a questa richiesta di ritorno a Sant'Ommaso d'Aquino possiamo dire che questo schieramento comincia un po i primi passi sono passi di ripiego sono passi bisogna dirlo e lo vedremo adesso di irrigidimento di fronte alla crisi modernista che è una crisi reale il neotomismo si chiude un po nella propria scolastica non una scolastica necessariamente gloriosa come la prima scolastica di Sant'Ommaso d'Aquino ma con tanti elementi carenti di carenza di non profondità teologica quindi prima si chiude in se stesso poi si apre e vi devo confessare che questo tomismo aperto questa riscoperta del tomismo opera di Gilson di Maritain di Cornelio Favro ma anche qui i miei professori nella mia facoltà di teologia anche loro che sono veramente tomisti sono tomisti che sono perfettamente competenti nella comprensione nella conoscenza di Sant'Ommaso d'Aquino ma sempre aperto ad altre istanze possiamo dire che il fronte neoscolastico o neotomista cominciò chiuso in se stesso qui i miei professori citando solo alcune padre Alain Contà un teologo profondamente tomista e profondamente aperto alle problematiche e agli autori della filosofia contemporanea abbiamo anche un grandissimo professore che non ha scritto molto ma che è stato un grande tomista anche alla gregoriana che padre Isquierdo la Biaga un grande mio professore che conoscenza di Sant'Ommaso d'Aquino ha da vendere quindi questa prima fase di ripiego poi diventerà una fra una fase di ricomprensione possiamo dire che il tomismo e fiorisce là dove non viene imposto nel momento in cui viene imposto come l'unica dottrina da accettare da accogliere nella chiesa il tomismo perde anche il suo sapore la sua bellezza la sua profondità quando il tomismo non sarà più imposto nella chiesa allora sorgeranno dei grandi teologi tomisti in dialogo con la cultura contemporanea quindi possiamo dire che questo è in sintesi la storia del tomismo del secolo ventesimo questo momento di ripiego tomista bisogna confessare bisogna dare la ragione ai teologi del rinnovamento che questo momento di ripiego tomista è appunto un atteggiamento di difesa di fronte alla modernità di paura di fronte alla modernità di chiudere un po gli occhi e di rinunciare in certo senso a quella caratteristica che era propria del cristianesimo che è la libertà di spirito che ha in qualche modo spinto Sant'Ommaso d'Aquino a non restare chiuso nella teologia di stampo platonica o platoneggiante dei padri della chiesa e aprirsi ad Aristotele non dimentichiamo che Sant'Ommaso d'Aquino è stato rifiutato come teologo sospetto durante i cento anni e perfino uno si è permesso di scrivere un correctorium fratritome un libro dove manifestava gli errori di Sant'Ommaso i supposti i cosiddetti errori di Sant'Ommaso e ne faceva la correzione di Sant'Ommaso quindi cento anni dove Sant'Ommaso è stato considerato un progressista bene si colloca questo tomismo del secolo ventesimo in un atteggiamento di ripiego di difesa di fronte alla modernità e considera se stessa come poi dirà Michela Burdet come lo statuto veramente scientifico del pensiero cristiano quindi oltre Sant'Ommaso d'Aquino oltre il tomismo non c'è possibilità di riflessione e questi sono atteggiamenti che manifestano una certa paura di fronte alla modernità il non essere sicuro della propria posizione fa sì che si rigidisce e si considera se stesso come il culmine non c'è niente da dire oltre Sant'Ommaso questa teologia considera la realtà da una prospettiva speculativa e questo è la grandezza del tomismo di costituirsi come una scienza quindi con un valore, uno statuto di verità piuttosto forte e il grande pregio della teologia tomista è la chiarezza e l'ordine formale che ha fa sì che non c'è possibilità di confusione però questa visione speculativa della realtà aveva fatto perdere al tomismo il contatto con la storia ed è appunto questo uno degli elementi della filosofia contemporanea che sarà preso dai teologi del rinnovamento cioè il dialogo con la filosofia e con la teologia della storia la visione biblica, biblica della storia che è appunto l'economia di salvezza questa progressione ordinata, questa acoluzia come chiameranno i padri della Chiesa a questa storia di salvezza di cui il tomismo era piuttosto carente non dico che non esisteva il mio grande professore José Antonio Esquerdola Beaga mi dice no, no, in San Tommaso c'è una filosofia e una teologia della storia ed è vero, i tre uomini di San Tommaso d'Aquino ma San Tommaso d'Aquino non lo ha inserito nella propria riflessione sono considerazioni un po' marginali ma non centrali mentre per i padri della Chiesa la storia della salvezza la considerazione della storia era fondamentale quindi il neotomismo si colloca come una teologia astratta una teologia che non entra, che non risponde alle esigenze della storia e non risponde alla storia stessa si vede la teologia scolastica come un garde-fou questa è un'espressione di Jean Danielou come una difesa, come una ringhiera per impedire agli incauti di cadere dall'abisso è un garde-fou per fermare un po' i scemi che potevano cadere nel modernismo quindi metto una barriera e questa barriera è il neotomismo ma una barriera non è una risposta ed è un tema che noi dovremo costantemente ricordare nel nostro corso è che il modernismo aveva dato delle risposte sbagliate risposte che portavano fuori dalla fede ma ha problemi reali ha problemi che il neotomismo non era in grado di risolvere non almeno quel neotomismo chiuso in se stesso in qualche modo fondamentalista andiamo avanti vi voglio far leggere un testo di Henri de Libac che lui scrive nei suoi quaderni del concilio per vedere un po' la situazione in cui si trovava la chiesa prima del concilio Vaticano II e che manifesta un po' questi due schieramenti è chiaro che de Libac che ha sofferto per questo dibattito per dieci anni non ha potuto insegnare e lui con l'obbedienza propria che li caratterizzava ha mantenuto questo allontanamento dall'insegnamento ma lui sarà chiamato dopo da Giovanni XXIII alla commissione preparatoria e lui mette per iscritto le sue impressioni allora leggiamo come la vede Henri de Libac prima del concilio Vaticano II la situazione teologica ovviamente sono caricature ovviamente sono generalizzazioni non voglio qui prendere la generalizzazione come di valore assoluto o che dice tutto su tutti è semplicemente un modo di vedere le cose allora che dice lui dice sto citando perché è un testo letterale questo è una citazione letterale dice Henri de Libac si può dire da un certo punto di vista che esistono due tipi di teologi i due schieramenti di cui abbiamo parlato i primi dicono rileggiamo la scrittura San Paolo eccetera scrutiamo la tradizione ascoltiamo i grandi teologi classici non dimentichiamo di prestare attenzione ai greci non trascuriamo la storia situiamoci in questo ampio contesto e interpretiamo in esso i testi ecclesiastici non trascuriamo nemmeno di informarci sui problemi bisogni, difficoltà di oggi eccetera questo sarebbe il primo schieramento di teologi noi abbiamo una lunga tradizione teologica che non si concentra solo in San Tommaso d'Aquino o nella scolastica, nei commentatori neanche nella cosiddetta teologia del Densinger cioè la teologia dell'esegesi dei testi magisteriali soprattutto gli ultimi la teologia è molto più ampia la tradizione della Chiesa è molto ricca andiamo ad ascoltare i padri della Chiesa andiamo ad ascoltare soprattutto i greci andiamo a vedere come si è evoluta questa visione della fede ecclesiastica mantenendo l'essenza applicando e aggiornando la fede cristiana secondo i contesti e secondo i momenti storici quindi questo è il primo schieramento poi c'è un secondo schieramento che commenta molto bene e devo dire purtroppo giustamente Henri de Libac dice gli altri dicono rileggiamo tutti i testi ecclesiastici di questi ultimi cento anni encicliche, lettere, discorsi di circostanza decisione prese contro l'uno o contro l'altro immunita del sant'uffizio eccetera di tutto ciò senza lasciar cadere nulla né correggere la più piccola parola facciamone in un intarsio spingiamo un po' più avanti il pensiero diamo a ciascuna asserzione un valore più forte soprattutto non guardiamo nulla al di fuori non perdiamoci in nuove ricerche sulla scrittura sulla tradizione né a forzioni sui pensieri recenti che ci metterebbero in pericolo di relativizzare il nostro assoluto come dico insisto è una caricaturizzazione però non manca di verità questo tomismo era un tomismo che si era ripiegato su se stesso non dialogava ed era questo il grande problema che ha dovuto affrontare il concilio Vaticano II il dialogo con il mondo la chiesa aveva perso la connessione con l'uomo contemporaneo questo è un frutto di questa situazione è la costituzione pastorale Gaudium et Spes che ha tentato di rifare questo collegamento nuovamente con il mondo con la storia con la filosofia eccetera continua e conclude Henri de Libac qui lo vedete piuttosto giovane lui è morto anziano negli anni 80 o alla fine degli anni 80 soltanto in teologo di la seconda specie è considerato sicuro in un certo ambiente lui ha dovuto soffrire in carne propria quando lui chiamato appunto a questa commissione preparatori del concilio c'era un altro teologo anche gesuita non è stato trattato molto bene dai suoi confratelli è il padre Danis che insegnava ecclesiologia alla Gregoriana che lo condannava e lo criticava fortemente ma quando padre de Libac gli ha chiesto un confronto teologico lui si è rifiutato e anziché prendere in mano la situazione e rispondere da teologo a una disputa come si faceva anche nel passato a una disputa lui appello al padre Sebastiano Tromp che anche era gesuita e poi al cardenal al cardenal Ottaviani devo dire che padre de Libac ha solo parole di apprezzamento sia del cardenale Ottaviani sia di Agostino Tromp che erano quelli che guidavano la commissione teologica o la la commissione dottrinale della preparazione del concilio anche se dice Henri de Libac anche se per certi versi il cardenale Ottaviani rappresentava diciamo il polo opposto alla sua teologia lui deve confessare che il cardenale Ottaviani si è comportato sempre come una persona attenta al dialogo e cercando la conciliazione il cardenale Ottaviani non è quel mostro nero che è stato dipinto io lo conosco anche grazie a uno dei miei padri spirituali il cardenale Luigi de Magistris che è stato stretto collaboratore di Ottaviani che bisogna raffermare la sua fede la sua adessione al papa anche contro le proprie idee le proprie opinioni lui è stato un grande un grande uomo di chiesa e questo va riconosciuto il cardenale Ottaviani segretario del santo ufficio perché il prefetto del santo ufficio a quel tempo era sempre il papa per questo motivo le note dottrinali del santo ufficio sono considerate parte del magistero del papa del papa proprio perché prima in passato era lui il prefetto lo stesso papa del prefetto del santo ufficio ed era guidato da un segretario cardinale e poi adesso dottrina della fede c'è un prefetto ma sempre le dichiarazioni e interventi del santo ufficio sono approvati dal papa soltanto il teologo della seconda classe è considerato sicuro in certi ambienti quindi un teologo che tenta di andare a trovare più elementi nella tradizione viene considerato sospetto continua questo non è fondato sui documenti sarebbe l'affermazione di questi teologi sicuri l'ho sentito più di una volta contano solo i documenti ecclesiastici soprattutto i più recenti chiudersi ve lo posso spiegare un po' più avanti adesso chiudersi solo nella teologia del magistero e finisce perché lui fa un giudizio su questo schieramento in questo stile c'è un positivismo di metodo e un fondamentalismo di spirito oltremodo eccessivo che rischiano per reazione di provocare in qualcuno il disprezzo per tutta la letteratura del magistero il cristianesimo sin dalle sue origini non mi stancherò di dirlo è una religione della ragione è una religione della verità questo papa benedetto sedicesimo ne ha insistito tanto nel suo magistero teologico prima ancora di essere papa quindi il fondamentalismo il rigidimento nel nel magistero ecclesiastico l'unica cosa che provocano è il rifiuto di questo stesso magistero quindi quello che chiedevano questi teologi quindi era quello di aprirsi a a tutta la tradizione e poi di saper dialogare con con il mondo con il con il pensiero contemporaneo bene dove sono eccoci qua andiamo avanti dovevo fare la cronostoria mi sto fermando su queste tematiche scusatemi sto facendo questo in diretta non mi sto fermando non sto editando il video e quindi abbiate pazienza ma penso che questi diciamo digressioni teologica sono necessari per capire i contesti di quello che stiamo parlando allora abbiamo detto che c'erano due schieramenti schieramenti il fronte neoscolastico e dall'altra parte la teologia del rinnovamento all'interno della teologia del rinnovamento noi troveremo due schieramenti o due tendenze quella francese che è appunto quella della nouvelle teologie è quella tedesca che gira intorno a misterium salutis misterium salutis è una grande enciclopedia scritta da molti teologi in collaborazione da molti teologi tedeschi adesso andiamo a vedere un po' più questo secondo schieramento perché non lo ritroveremo dopo allora questa enciclopedia teologica si chiama misterium salutis il mistero della salvezza e ha come sottotitolo nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza teologia della storia della salvezza questa teologia della storia della salvezza ricupera un termine dei padri della chiesa che è appunto o economia l'economia di salvezza che è come Dio diciamo organizza e sistematizza la salvezza tramite una storia e o viene chiamato semplicemente la storia della salvezza quindi nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza questa questa enciclopedia è stata progettata tra il 58 e 59 e quindi metterà lavoro un po' più tardi dei teologi francesi e ancora più tardi dei teologi domenicani francesi chenui eccetera comincerà un po' più tardi sarà feconda e non essente sicuramente di difficoltà e di di attenzioni quindi bisognerà guardarlo criticamente quindi il primo volume esce nel 1965 e l'ultimo volume nel 1976 quindi è un lavoro che è durato un decennio dieci anni ancora di più se parliamo della 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 progettazione Rahner quando parla della dogmatica della teologia dogmatica fa questa definizione che voi vedete nella presentazione la dogmatica è uno sforzo dell'intelligenza è una scienza che devono servire al proprio tempo perché devono servire alla salvezza e non alla curiosità teoretica quindi uno degli elementi che avrà questa questa enciclopedia è l'attenzione ai problemi del tempo come la teologia risponde non solo astrattamente al mistero di dio teologia diciamo la teologia è fondamentalmente la scienza di dio però noi lo vediamo anche nella somma teologica di sant'ommaso d'aquino di dio e di tutto quello che si riferisce a dio quindi quando sant'ommaso d'aquino parlerà della creazione quando parlerà della dell'uomo della libertà del del discernimento delle fasi dell'elezione della scelta di parte dell'uomo e sta parlando sempre all'interno di questa questo ambito della teologia la teologia riguarda quello che è la natura di dio e quello che è il suo disegno di salvezza e tutto quello che si riferisce a dio tra questi elementi fondamentali che si riferiscono a dio è come la rivelazione risponde ai problemi del tempo come come diventa per me che vivo nel secolo ventesimo che ventunesimo già che mi trovo in una situazione per esempio di pandemia come la rivelazione risponde e questi sono problemi che man mano che passa la storia vengono e chiedono al teologo una nuova risposta non dico nuova nel senso che cancella quella precedente ma nuova nel senso di rinnovata deve servire al proprio tempo deve servire alla salvezza non solo alla curiosità teoretica non dobbiamo domandarci quanti angeli possono stare insieme nella cruna nella punta di un ago una domanda molto bizantina o qual è il sesso degli angeli eccetera queste sono domande di tipo diciamo di tipo curioso ma non rispondono alle problematiche del tempo quali sono le tre caratteristiche che il misterium salutis dà alla teologia primo deve essere teologia biblica che superi la separazione tra dogmatica e deseggesi da una parte poi vedremo con un autore Ambroise Gardey il fondatore possiamo dire della scuola di Le Salchoir dei Domenicani Francesi come la teologia positiva quindi la teologia che implica anche l'esegesi era considerata qualcosa che non entrava la teologia scolastica è una teologia delle conclusioni è una teologia diciamo speculativa e quindi la teologia positiva o la teologia che implica la lettura e la comprensione del testo biblico non era considerata teologia in senso stretto e allora la misterium salutis chiederà no bisogna introdurre la teologia biblica bisogna tornare alla bibbia questo va bene lo dico adesso tanto poi ci fermeremo dove ci fermeremo facciamo una seconda una seconda puntata forse domani allora qual è il problema della del rapporto tra teologia e bibbia no se vi ricordate nel medioevo il tempo di San Tommaso d'Aquino una buona parte della teologia era il commento il commento l'alexio è il commento della sacra scrittura quindi la sacra scrittura era l'anima della teologia poi la somma in qualche modo le somme sentono questo questo background biblico diciamo poi con la manualistica è cambiato il il modello di fare teologia il modello non è più la question non è più l'alexio ma è la mi è sfuggito il nome adesso no è la tesi no la tesi allora la tesi che significa Dio è uno e trino si affermava la verità di fede una verità che compariva nel catechismo nel credo eccetera Dio è uno e trino dimostrazione per la sacra scrittura e allora a questo punto la sacra scrittura diventava nella manualistica un locus provantis un luogo per provare la verità della fede di questa la verità di fede di questo asserto di questo articolo di fede per tante volte questa prova questa prova della scrittura era prendere dei testi isolati senza contesto senza fare una critica per capire qual era l'intenzione dell'autore quando scriveva questo testo e veniva usato quasi come una specie di sì sì come locus provantis come frasi senza contesto per dimostrare la verità quindi non si nega la verità ma si nega come o si chiede di ritornare alla Bibbia come anima della teologia no non come elemento secondario che semplicemente serve per provare per provare ok andiamo avanti quindi tenta la misterium salutis di superare appunto questa difficoltà o questo allontanamento dalla sagra scrittura poi deve essere dice misterium salutis una teologia storica che superi la teologia del Densinger e quella del florileggio dei dogmi e dell'uso dell'argomento expatribus allora superare la teologia del Densinger perché si chiama teologia del Densinger allora siamo prima del modernismo il protestantesimo liberale la nascita degli studi biblici la nascita dell'applicazione dei criteri storici ai vangeli e questo creò una serie di problematiche per i teologi perché prendere la scrittura significava in qualche modo concedere ai protestanti liberali e agli illuministi di dover fare quest'analisi storico che porterebbe a negare il valore storico diciamo e quindi fare uno studio biblico o una presentazione biblica diventava rischioso quindi meglio non entrare nell'esegesi biblica dall'altra parte anche riguardo i padri andare a tentare di approfondire nei padri sarà visto come una specie di vado ai padri per non guardare Sant'Ommaso d'Aquino cioè come un disprezzo alla teologia di Sant'Ommaso d'Aquino e questo era visto con sospetto quindi l'unica cosa che restava ai teologi era quella di prendere ciò che era sicuro ed erano le affermazioni del magistero e un grande teologo Densinger fece una collezione appunto di testi magisteriali che è utilissimo veramente è stato uno degli strumenti più validi che ha aiutato tanto i teologi un compendio dei pronunciamenti dogmatici qual è il problema però questo compendio che prende i pronunciamenti dogmatici non prende in considerazione la relatività storica cioè che questi dogmi sono stati detti in contesti storici e teologici diversi e allora teologia del Densinger astrattismo cioè non prendere in considerazione il contesto e dare tutto per uguali dello stesso valore senza badare al contesto metto un esempio più decimo più decimo lo vedremo adesso rifiuta uno un'idea modernista modernista che è appunto la separazione tra la chiesa e lo stato per noi che siamo persone del secolo ventunesimo che abbiamo visto questo sorgere delle democrazie eccetera accettiamo pacificamente che la chiesa ha il suo compito e lo stato ha il suo compito non possiamo essere chiamati modernisti perché consideriamo che la separazione non l'ostilità ovviamente e non l'invasione dei campi ma un rapporto diciamo di collaborazione è necessario mantenendo la differenza la distanza e la distinzione tra l'ambito civile laico e l'ambito ecclesiastico spirituale con il contributo che la chiesa può fare nel mondo non siamo chiamati modernisti perché siamo d'accordo con questo ma alla luce dell'enciclica pascendi scusate del lamentabili noi possiamo essere considerati modernisti proprio per questo allora c'è una relatività storica c'è una un contesto storico che bisogna tenere in considerazione ok andiamo avanti e anche la teologia sistematica terza caratteristica della teologia del misterium salutis che è nell'orizzonte della storia della salvezza quindi una teologia che si fa nell'orizzonte della storia della salvezza che usa una vasta gamma di categorie e sistemi filosofici quindi tomismo il personalismo altre diciamo correnti filosofiche purché rispettino ovviamente purché rispettino gli elementi fondamentali della che poi sono preamboli per la fede cioè non posso prendere come filosofia di riferimento il materialismo marxista perché il materialismo marxista nega la spiritualità e nega Dio allora non posso fare una teologia basandomi nella filosofia marxista questo sarebbe assurdo ma ci sono alcune correnti filosofiche che potrebbero aiutare a comprendere più la fede cristiana non solo la filosofia scolastica non solo San Tommaso d'Aquino andando anche ad altri autori sicuri come Sant'Agostino come San Bonaventura tanti teologi che non sono San Tommaso d'Aquino ok quindi queste sono le due tendenze e io penso che per il momento ci fermiamo qui dovevamo fare la cronostoria della Nouvelle Teologie e mi sono fermato a parlare di questi schieramenti ripeto da una parte aspettate un secondo eccoci qua da una parte il fronte neoscolastico che bisogna riconoscere ed è doveroso riconoscere non riconoscere l'irrigidimento della filosofia della teologia scolastica dell'inizio del secolo ventesimo e chiudersi alla storia poi io sono il primo a riconoscere che poi con Gilson con De Finans con Cornelio Fabro la filosofia scolastica e la filosofia di San Tommaso avrà un revival e insisto proprio quando la filosofia scolastica non era più diciamo una materia obbligatoria ed è lì che la filosofia scolastica si libera da diciamo dalle imposizioni e diventa una filosofia veramente molto profonda molto ricca nella quale io sono stato formato e quindi schierimento neoscolastico il fronte neoscolastico Pietro Parente Garry Goulagrange Henri Labourdette fondamentalmente saranno questi tre di cui dovremo parlare poi c'è la teologia di stampo tedesco attorno a Misterium Salutis è molto interessante perché noi abbiamo una grande scuola del 1800 che è la scuola di Tubinga Müller Drey Scheven anche in parte non so se lui appartenga o non mi ricordo adesso bene però che ha sviluppato tutta la nozione di mistero di mistero e questa non è stata condannata come teologia pericolosa i motivi per i quali la nouvelle teologia è stata condannata non sempre riguarderà non dico non solo ma non sempre riguarderà questioni teologiche ma anche questioni di indurimento indurimento dottrinale indurimento intellettuale bene ci finiamo finiamo qua se ti piace le tematiche ti chiedo gentilmente di iscriverti al mio canale così aumentiamo diciamo la possibilità di condividere le cose interessanti e anche tu ti chiedo gentilmente di condividerlo con i tuoi amici di commentare se non sei d'accordo scrivi anche non ho paura della critica se questa è fatta con rispetto e con argomenti perché se non abbiamo argomenti meglio andiamo a cercare gli argomenti e poi discutiamo ciao arrivederci grazie a tutti